numero 5 questa collana è in acciaio inossidabile ha una lunghezza di 50 centimetri e un peso di 53 grammi viene fornita con una confezione regalo la collana è molto apprezzata dai giovani utenti è ideale per uno stile urban per gli amanti del rap o dell'hip hop ottima idea regalo per ogni occasione trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questa bellissima collana cubana è stata realizzata con una doppia placcatura per riflettere molta luce e una collana perfetta per gli amanti dell'hip hop o rap la collana ha un design moderno in perfetto stile urban la chiusura di alta qualità assicura che la collana in acciaio si chiuda in modo sicuro e non si apra facilmente questo prodotto è robusto non si piega o rompe facilmente la collana è disponibile in diverse misure il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 la collana combina la forza dell'acciaio con le proprietà delle matite pietra naturale che è associata alla concentrazione e alla disciplina piccoli elementi si alternano per un gioiello dall'eleganza discreta la collana misura 52 centimetri ottima idea regalo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 questa collana da uomo morellato appartenente alla collezione vela ha una lunghezza di 50 centimetri è realizzata in acciaio e cristalli la collana con maglia gourmet è caratterizzata da una pratica chiusura a moschettone un accessorio dal gusto casual chic con costruzioni stilistiche curate in ogni dettaglio ottimo prodotto se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 questa collana da uomo ha una lunghezza di 45 centimetri e 5 centimetri estensione la collana è in vera pelle nera con perline in acciaio inossidabile ad effetto legno la chiusura è a moschettone il prodotto viene spedito in scatola di latta ottima idea regalo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione